I regni non combatteranno le tue guerre eterne. Arrenditi o i tuoi amici saranno perduti. Solo io posso creare un futuro per loro. Il futuro che offri è un incubo immondo e non potrà mai avere luogo. L'impresa è conclusa Liu Kang. Lord Ryden. Chiamami solo Ryden. Ti sei dimostrato degno di prendere il mio posto come protettore della terra. Lord Liu Kang. Cosa ci aspetta adesso? Le sabbie sono ormai a tua disposizione. Devi riportare la Klessidra all'alba dei tempi e scrivere una nuova storia. Una migliore. Il destino di tutti i regni nelle mie mani. Ryden. Non posso farcela da solo. Sì. Ti servirà qualcuno che ti accompagni per millenni. Kitana. I vostri destini sono sempre stati intrecciati. Siamo in un passato remoto, ma sono ancora in grado di raggiungerla. Torna con lei all'alba dei tempi e nelle sabbie della Klessidra plasma un nuovo futuro. Non vedo l'ora di rincontrarti nella prossima realtà. Dunque non ti dirò addio. Sei pronta? Sì, ma indipendentemente dalle sabbie, non c'è modo di prevedere ogni futuro. I mortali compiranno le loro scelte e nuovi mali emergeranno. Ogni regno determinerà il suo destino e affronteremo insieme qualunque cosa accada. Sì, ma indipendentemente dalle sabbie.